Di Franco Mannino, devo dire, a parte l'amicizia e la simpatia con quest'uomo fatto di musica, mi dette una grande chance perché mi chiamo a interpretare un'opera che lui scrisse per il Teatro Massimo di Palermo. Il testo era di Medioli, San Just e Lucchino Visconti e la regia era di Lucchino Visconti. Io feci il protagonista di quest'opera, il Teatro Massimo di Palermo, con Lucchino Visconti e lavorai con lui per un mese. Un'esperienza importante. Un'esperienza determinante perché diciamo che io sono un tenore molto amato dai registi e chi mi ha forgiato forse fu il lavorare assiduamente con Lucchino Visconti, cioè l'acquistare naturalezza in scena io lo devo letteralmente a Lucchino Visconti. È ovvio nominare questo nome, ognuno può capire, chi ha lavorato anche in prosa con lui, che cosa si può attingere da un uomo come Visconti.